Rocco Giuliano, consigliere provinciale a distanza di due mesi dal commissariamento al Comune di Polla, come giudica questa situazione che si è venuta a determinare? Ma al di là del giudizio io penso che la comunità pollesa non meritava un commissariamento, al di là della persona, perché in effetti non c'entra il commissario, anzi è una persona splendida e si sa che quando qualcosa viene commissariato c'è qualcosa che non va. Quindi questa cosa è conduta come una tegola, forse anche in mia assenza, quando io ero ricoverato presso l'ospedale di Napoli, quindi si poteva anche soprassedere in attesa che tutti quanti avessero dato il proprio contributo affinché si discutesse della richiesta di commissariamento. Purtroppo è qualcosa che è successo, non doveva succedere, ci auguriamo che presto Polla abbia un'amministrazione che merita, io sono uno di quelli che si è proposta a candidato nella continuazione del passato, quindi non possiamo dimenticare il passato di quanto è stato fatto per Polla, abbiamo tante iniziative ferme che dobbiamo riprendere e portare a termine, c'è un programma che viene da lontano, viene forse da più di qualche anno e anche gli amici che in questo momento hanno lasciato la maggioranza e hanno fatto quel documento che fosse poco auspicabile in questo momento, delicato, se potevano anche soppressativi e discutere, perché penso che il confronto poi porta a qualsiasi soluzione delle problematiche, perché alla fine la politica fa la sua parte, ma i rapporti sono un'altra cosa, che poi non deve pagare il cittadino, perché il problema c'è, le dissenze che esistono tra le persone, noi rappresentiamo una comunità e quindi queste dissenze, oppure questi sapore che a volte si vengono a creare non devono pensare sulla comunità che amministriamo, che c'è a Lettri, ad amministrare la cosa pubblica. Da dove si parte ora il consigliere Giuliano? Fra le tante certezze evidentemente ce n'è una di sicuro, il nome di una lista che ormai è diventata storica a Polla, quella che l'ha vista sempre presente in ogni competizione, così? La lista, diciamo, il motto è sempre quello, cioè noi da diversi anni che abbiamo come simbolo, come pollisi per Polla, il portone del comune, quindi quello sarà il nostro simbolo, ci ha portato nel passato, fortuna, ci ha portato anche a realizzare cose importanti per Polla. Certamente negli ultimi tempi le cose sono cambiate, sono cambiate anche perché è cambiata la politica, è cambiata anche le tante problematiche degli enti locali, quindi tutti stanno in difficoltà, non è che solo Polla ha la difficoltà, anzi in ogni comune che si va può essere ancora più grave di quello di Polla. Lo stesso commissario ha asserito in un'intervista che Polla non era un comune da commissariare, né un comune di dissesto comunque. Certamente i problemi ci sono, noi, lei diceva di partire, diciamo da dove partiamo? Partiamo da quello che avevamo già iniziato, cioè che poi ci siamo fermati, quindi dobbiamo completare l'area industriale che rappresenta un fiore all'occhiella, rappresentate, rappresenta ancora e dobbiamo completarla, dobbiamo portare a termine il piano urbanistico che è molto importante per un comune, quindi sarebbe la programmazione del comune stesso, quindi per lo sviluppo economico. E poi abbiamo qualcosa o qualcosa che qualcuno non ha, noi abbiamo il Tanaco che attraversa Polla, quello va valorizzato, quindi abbiamo dei progetti, ma abbiamo in questo momento anche tanti progetti finanziati, quindi perciò dico che Polla non meritava di essere commissariato. A Polla in questo momento ci sono firmi, cioè decrediti, finanziamenti che non vengono sbloccati per problemi del patto di stabilità, per tante problematiche, la regione Campania, la stessa, diciamo i vari ministeri da cui abbiamo avuto le risorse, che abbiamo circa 20 milioni di euro, quindi 40 miliardi delle vecchie lire, da spendere a Polla su opere pubbliche che rappresentano comunque uno sviluppo economico e anche sociale della comunità pollese. Grazie. Grazie.